Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di oggi venerdì 3 gennaio 2020, siamo in diretta Sul canale 17 di Fano TV e questa è la rassegna stampa che come tutte le mattine vi dà la possibilità di uscire di casa aggiornati, informati sulle notizie principali pubblicate sui quotidiani Carlino e Corriere Adriatico Cominciamo come di consueto con il Santo del Giorno, oggi la Chiesa ricorda il Santissimo nome di Gesù, Gesù che significa Dio e salvezza, il sole sorgerà alle 7.41 e tramonterà alle 16.43 Oggi avremo un cielo sereno poco nuvoloso con temperature senza variazioni di rilievo, domani invece sabato mattina nuvolosità in aumento con precipitazioni al primo mattino e occasionali brevi e debolissimi piovaschi nei settori montani Le temperature domani saranno senza variazioni di rilievo mentre per domenica ancora cielo poco nuvoloso con temperature massime in calo ma ci sono domenica venti, raffiche di vento soprattutto nei settori interni dove potrebbero arrivare anche a intensità di burrasca Vediamo le temperature previste per oggi venerdì alle ore 14, comunque sono temperature che rispetto alla notte sono decisamente in aumento, superano i 10 gradi come avviene sulla costa come Pesaro, Fano 10-11 gradi così come ad Ancona Quindi temperature comunque piuttosto elevate rispetto alla media del periodo Allora c'è la cronaca, c'è anche un po' di politica La novità è che Massimo Seri, sindaco di Fano potrebbe passare a Italia Viva il partito fondato da Matteo Renzi Ma c'è come dicevo anche la cronaca, ancora qualche notizia che riguarda la notte dell'ultimo dell'anno così come la morte di un giovane del capo ultra della squadra di basket pesarese Ma vediamo i titoli, un bambino che si perde nel bosco, bimbo si perde nel bosco, questo è il corriere adriatico, task force per ritrovarlo, il piccolo che soffre di autismo si è allontanato dal cuginetto con cui giocava E' successo a Monte Felcino, vedremo i dettagli nelle pagine interne Monopattini pronti per la fase 2, l'amministrazione comunale di Pesaro prepara un nuovo bando di gara per la gestione normativa in vigore, sperimentazione dunque ormai conclusa Matrimonio di Capodanno, qui siamo sul Carlino di Ancona E questa è la fotografia postata da questa coppia milanese che ha deciso di sposarsi a San Silvestro a Seniglia Questa è la piazza, vedete, con le luminarie e questo cielo stellato che a quanto pare ha avuto un grande successo quest'anno Ancona Ambiente ci ripensa, per il concorso niente più sbarramento agli over 40 Per assumere 35 operatori ecologici, i precari saranno dunque agevolati Macerata, l'accoglienza non si ferma, ospitalità per 101 migranti, progetto prorogato per altri 3 anni Ne dà il voto al sisma, le sfide del 2020, nel capoluogo il battesimo delle nuove scuole e l'ospedale unico Civitanova aspetta invece l'università E poi la tabaccaia aggredita che torna in ospedale e dice non voglio mollare Pesaro, in lacrime per Paolo, infarto fatale, era il fratello di Marco Piccoli, capo ultra della VL Pompiere e figlio volono dall'autoscala, Urbino, il padre voleva mostrare al piccolo come funzionava Una caduta da un'altezza di 6 metri Seri verso la svolta, il sindaco a un passo da Italia Viva E Ceriscioli invece con Ricci, una tregua armata in vista del voto Daniel alle pensiline e ai cassonetti a Sant'Orso, incastratta la baby gang E sotto lo sport con il calcio, la vis su Marcheggiani, Burzigotti per il Fano Mentre basket, mercato e guai fisici, Chapman giorni caldi Questa è la pagina interna invece della Valmetallo del Corriere Con la notizia che arriva appunto da Montefelcino Si sono vissute ore di paura e di apprensione per la scomparsa di un bambino di 7 anni Autistico, disperso tra i boschi Una famiglia in stato di agitazione, una macchina di soccorsi che si è mossa in forze per salvare il bambino Una famiglia comasca che era a trascorrere le vacanze natalizie da alcuni parenti residenti a Montefelcino Il loro piccolo di 7 anni, come dicevamo affetto da autismo, si è allontanata da casa Con vestiti leggeri addosso e fuori però era freddissimo Il piccolo è stato perso di vista solo per alcuni istanti dei genitori Mentre stava giocando con il cuginetto poco prima dell'ora di pranzo Mentre Paolini, il presidente della provincia, il 2020 dice sarà l'anno della rinascita delle Cesane L'intesa tra Isola del Piano, Fossombrone, Urbino e l'Unione Montana Così titola invece il resto del Carlino Bambino si perde nei boschi, ritrovato infredolito dopo due ore Per fortuna è stato rintracciato a soli 500 metri da casa Era infredolito ma in buona salute e ha potuto riabbracciare i familiari A scopo precauzionale è stato però accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale di Fano Di spalle invece il capodanno dai vaso viene arrestato I carabinieri di Urbino lo hanno trovato che si aggirava intorno alla zona Sasso Alle 5 del mattino, forse fresco di festeggiamenti del nuovo anno In realtà questo 48enne di origini meridionali che risiede a Urbino Ma che non poteva stare fuori perché a quell'ora dalle 23 alle 7 del mattino doveva essere in casa È stato portato in cella di sicurezza Autoscala cede, i vigili dalla festa passano al dramma a Urbino Il 31 dicembre scorso questo pompiere mostrava al figlio come funzionava l'autoscala La volata si chiude però per un difetto e tutti e due precipitano per 6 metri È successo, dicevo, intorno alle 20 dell'ultimo dell'anno nella caserma dei pompieri di Urbino Sia il padre che il figlio sono seriamente feriti Ambe due trasportati in ospedale sono stati sottoposti ad accertamenti Il minore che ha meno di 10 anni ha una frattura di una gamba Mentre ferite serie da trauma anche per il padre a livello di lesioni vertebrali Nessuno però dei due è in pericolo di vita Ovviamente è stata inviata una relazione anche al Ministero e al Comando Nazionale dei Vigili del Fuoco Perché la struttura era già stata bloccata Ma comunque è un meccanismo che evidentemente ha dei problemi E per evitare che questo accada anche in altre situazioni Soprattutto chi usa questo tipo di autoscala è stata giustamente inviata questa relazione La notte di San Silvestro invece Davide Zuebi del Carlino fa un resoconto di quelle che sono state le cene Andate un po' così di traverso ad alcune persone Per esempio a Talacchio un uomo si è accasciato mentre era a tavola Poi si è rifiutato di essere trasportato all'ospedale Mentre a Baia Flaminia una signora di mezz'età lo stesso ha avuto un malore A Sant'Angelo in Lizzaro un settantenne è stato portato via con l'ambulanza Mentre alla stazione dei treni nella sala d'attesa c'era un ubriaco steso per terra Che non dava segni di vita Mentre una ragazza di 20 anni il primo di gennaio è stata soccorsa in casa Perché ha avuto una crisi di panico Tutti i dettagli nel giornale di questa mattina Così come si parla di questo infarto fatale durante la notte di Capodanno Che ha colpito Paolo Piccoli, fratello di Marco, storico ultra della VL Ha chiuso il bar ed è tornato a casa, è stato trovato morto da suo nipote Insieme al fratello Marco avevano gestito una ventina di anni fa il ristorante Monte Chiaro a Borgo Santa Maria Poi per qualche anno era partito per il Brasile, scrive Elisabetta Ferri questa mattina Dove aveva trovato anche una donna, si era sposato con una ragazza brasiliana Che poi lo aveva seguito in Italia, però la storia era durata poco La sera del 31 dicembre, tra l'altro Paolo scriveva, aveva postato anzi una celebre canzone di Lucio Dalla, Piazza Grande Aggiungendo un commento che è questo Con questo capolavoro, che sento molto mio, vi auguro un 2020 felice e a modo vostro A rileggerlo adesso, sembra quasi un saluto Scrive Elisabetta Ferri con un ciao Paolo che chiude questo suo articolo Evidentemente scrivendo di sport si conoscevano E quindi è stata toccata questa collega anche da questa morte Paolo Piccoli aveva solo 43 anni E questa invece è la pagina di Senigallia del resto del Carlino Vorrei soffermarmi un attimo perché fate attenzione Quando parliamo di truffe, e ormai lo ricordiamo tutti i giorni Ma vale la pena risoffermarci ancora Perché questa è una truffa francamente abbastanza nuova Tra virgolette Allora, che cosa è successo? Qui siamo a Senigallia La truffa viene definita come quella dei finti investimenti degli scooter Sono stati segnalati tre casi in due giorni Dichiarano di essere stati travolti da un'auto in retromarcia Poi tentano di incassare finti risarcimento Allora, fate attenzione Così racconta questa signora ai Carabinieri Stavamo facendo retromarcia quando abbiamo sentito un grosso colpo Quando siamo scesi dall'auto C'era un uomo di circa 40 anni a terra Con la bicicletta sopra di lui Ha detto che aveva male alle gambe E nel frattempo è arrivato un ragazzo Ovviamente un complice Sui 25 anni Che ha detto di aver visto tutto E chiedeva se il signore aveva bisogno di qualcosa Quindi cercate di immaginarvi anche la scena Questo quarantenne per terra Con la bicicletta addosso Un complice, un uomo Un ragazzo che arriva subito a dire Ah, io ho visto tutto Come sta, come sta La coppia, che era in auto Ovviamente verifica il suo stato di salute Lui dice che stava bene Ha tirato poi fuori un telefono Un telefono cellulare Un Samsung S8 E gli ha fatto vedere Dice lei, racconta Mi ha fatto vedere il vetro del cellulare rotto Mi ha detto che non aveva bisogno di nulla E che bastava dargli i soldi Per riparare il cellulare Ha estratto un altro telefono dalla tasca E ha detto che era della moglie Che avrebbe chiamato Per sapere esattamente il valore del vetro Ci ha chiesto 67 euro Gliene abbiamo dati 65 E la vicenda si è chiusa lì Ora, il resto lo potrete trovare sul giornale Leggere tutti i dati e quant'altro Ma questo è il succo della truffa Quindi se vedete a terra uno Con la bicicletta sopra E un altro che immediatamente arriva E vi dice ho visto tutto E vi chiede i soldi per un cellulare rotto Chiamate i carabinieri Immediatamente O la polizia Vandali a Sant'Orso Siamo a Fano Fermati i sei minori Avevano appiccato il fuoco Ai cestelli dei rifiuti E la casetta per gli attrezzi di Via Petri Lo scorso 30 dicembre La polizia locale li ha smascherati E convocati insieme ai genitori in caserma Forse hanno commesso anche altri danni L'assessore della polizia Cuccherini Dice nel quartiere Saranno presto installate altre 16 telecamere Intanto i sei ragazzi sono stati Come dicevo prima ascoltati Sono tutti residenti nella zona di Sant'Orso La loro età media si aggira intorno ai 15 anni E ora di conseguenza il falò nell'area verde vicino al campo da palacanestro Può essere catalogato certo come la classica bravata Senza nulla togliere però alla gravità del cesto E dice sempre la Cuccherini Sarebbe bello che si pensasse in qualche modo anche a un piccolo progetto Per ricostruire il casottino degli attrezzi Magari coinvolgendo anche coloro che lo hanno distrutto Giunta serie, solo progetti da spot elettorali con i soldi degli altri La Lega va all'attacco sull'operato Sempre le solite promesse dalla caserma al lungomare La mia auto presa a calci e rigata nel parcheggio per disabile Il titolo invece è di un'altra notizia di cronaca Che troverete sul Carlino di Fano All'ospedale successo all'ospedale Santa Croce Qualcuno ha voluto fare il giustiziere Pensando che non avesse il diritto di parcheggiare negli stalli E poi la notizia della quale vi ho parlato all'inizio in apertura Il sindaco Seri che potrebbe essere ad un passo da Italia Viva Il partito, il movimento fondato da Matteo Renzi L'accordo con lui sarebbe in fase avanzata E starebbe lavorando ad una operazione di più ampio respiro Il diretto interessato in realtà non rilascia dichiarazioni Dunque il sindaco non parla Ma da ambienti a lui vicini Assicurano che l'iscrizione non sarebbe ancora formalizzata Anche se l'accordo è in fase avanzata Italia Viva che è stimata poco sotto il 5% Potrebbe rappresentare per il primo cittadino Un contenitore politico nel quale lavorare E con il quale costruire il suo impegno futuro Al termine della legislatura I rumors dicono che il primo cittadino Starebbe lavorando ad un'operazione di più ampio respiro Che non si limiti al semplice tesseramento di se stesso Italia Viva ma coinvolga anche amministratori Della provincia interessati E a proposito di amministratori interessati Va ricordato che tra i politici di primo piano Del territorio che hanno aderito a Italia Viva C'è già il consigliere regionale Federico Talè Che insieme al collega Fabio Urbino Ha dato vita al gruppo in consiglio regionale E poi c'è la notizia che insomma la preziosa attività Del Club Mattei Un anno pieno di impegni per circa 100 soci C'è un resoconto di quello che è stato fatto Nell'ultimo anno È stato un anno duro per tutti Ma grazie all'impegno dei soci del Cibi Club Mattei di Fano Per qualcuno è stato un po' più semplice Rimettersi in piedi dopo le batoste subite L'attività dell'Associazione di Protezione Civile di Fano È stata intensa e diversificata Dagli eventi alle manifestazioni Dal catrivale di Fano con le marathon Turba di Cantiano Fino ad altri impegni Come la ricerca delle persone scomparse nei boschi Con l'impiego di unità cinofile E poi la fotografia per la famiglia Per la signora che ha partorito la piccola Serena All'ospedale di Fano La prima nata in tutta la provincia Che ieri ha ricevuto la visita anche del sindaco di Fano Massimo Seri E di Paolo Reginelli Che è il presidente di Aset Alla quale hanno consegnato anche una borsa Con dentro l'occorrente per la piccola nata Sempre di politica sulle pagine interne del Carlino Ceriscioli, Ricci, patto di non belligeranza Incontro prima di Capodanno in vista delle regionali Mentre Gostoli, segretario regionale del PD Incaricato di trovare il successore di se stesso Per la segreteria provinciale Il faccia a faccia Governatore e Sindaco hanno stretto un'intesa Che però si regge su un filo Il PD pesarese ha l'urgenza Di nominare una persona Che sostenga apertamente La candidatura di Ceriscioli Ma che al contempo non crei crepe A quel patto di non belligeranza Che il governatore e Matteo Ricci Avrebbero rinnovato poco prima di Capodanno In un incontro riservato Patto di non belligeranza Che si regge però su un filo Non è un caso ad esempio Che l'ex sindaco di Ofida Valerio Lucciarini Abbia espresso le sue convinzioni Di discontinuità rispetto a Ceriscioli In un periodo in cui il PD Aveva appena ribadito l'appoggio Alla conferma del presidente uscente Insomma, Margherita Pedinelli Intanto e Rosetta Fulvi Sono in lizza per la federazione Anche se poi decide l'Assemblea 5 Stelle Valanga di no invece all'intesa Con il Partito Democratico Siamo sempre in vista delle regionali Le consultazioni online Tra i portavoci e i militanti Bocciano la possibilità di un'alleanza Ma Maggi va avanti Nonostante tutto Diceva un vecchio professore Di diritto privato Per intimorire gli studenti I 30 che ho dato Si contano sulle dita di una mano mozza Dito più dito meno È lo stesso numero di portavoci 5 Stelle marchigiani Che sono favorevoli Ad un accordo con il PD In vista delle elezioni regionali Della prossima primavera Ancora dalle pagine di Fano La Befana regalerà 1200 calze Volo in paracadute Poi la festa Appuntamento in piazza Negli hangar dell'aeroporto La domenica sarà dedicata Anche al Voulon Che è il personaggio tipico Del carnevale di Fano Lo spettacolo Lo ricordiamo L'aeroporto Inizierà alle 9.30 del mattino Quando i bambini Con le loro famiglie Potranno visitare gli hangar Scaldarsi con della cioccolata calda Senza glutine Preparata da un ristorante Che sta proprio lì All'interno dell'aeroporto E poi ammirare le esibizioni aeree In attesa dell'arrivo delle Befane Befane che arriveranno Con il paracadute Che scenderanno dal cielo Intorno alle 11.30 Portando le loro calze Poi però c'è Come dire Il programma Quello della piazza Il sipario Si apre nel pomeriggio Ed è una Befana Come sempre molto generosa Perché consegnerà ai bambini 1200 calze Ripiene di dolciumi Il programma dicevo Prevede alle 15.30 Una serie di laboratori Quindi insomma Già dal primo pomeriggio E quindi è importante Non farsi trovare impreparati Ed essere lì belli pronti E così titola invece Il resto del Carlino La Befana arriva dal cielo Si scala con il paracadute Tre giorni di dolcissima magia In compagnia della mitica vecchina Appuntamenti ricchi di divertimento Spettacolo e ghiottonerie A Senigallia invece Il nostro pazzo matrimonio Degli anni 50 La coppia milanese Si è sposata La Rotonda La sera di Capodanno E ha festeggiato Ai ritmi del Giamborì Che fantastica cosa Dicono Sharon e Tommaso Questa coppia di Milano Appunto Che ha celebrato il matrimonio Alle 17 del 31 dicembre E poi ha festeggiato La notte di Capodanno E questa è la fotografia Che li ritrae Sotto questo cielo stellato Nella piazza Meravigliosa Di Senigallia E questi sono Sono loro In questa immagine E qui Mentre ballano Durante la festa Dell'ultimo dell'anno Abbiamo fatto tutto in 38 giorni E con il telefonino Sharon 35 anni di vacanze Sulla spiaggia Di Velluto Vengono a partorire A Urbino Da lontano Siamo un riferimento Il bilancio positivo Per ostetrici E ginecologie dell'ospedale Il dottor Condemi Dice in controtendenza Rispetto alla regione E come abbiamo già detto Il primato Del primo nato Spetta A una bambina di Fano Né a Pesaro Né a Urbino Ma Urbino Poi si è rifatta Perché Il giorno dopo Ovvero il 2 Di gennaio Alle 8.32 E alle 8.33 Sono nati Riccardo E Edoardo Una bella coppia Di gemellini Quindi dopo un giorno Di attesa Anche l'ospedale di Urbino Ha dato Ha avuto il primo nato I primi Perché si tratta Appunto di due gemelli E così hanno inaugurato Questo nuovo decennio Al Santa Maria Della Misericordia E questa è la fotografia Della mamma Il papà E già dell'altro fratellino Poi qua invece Il personale in corsia Di ostetricia E ginecologia Sotto invece il primario Il dottor Leone Condemi Poi sempre da Urbino Ma il Corriere Adriatico Apre con Raffaello Aspettiamo eventi D'eccellenza Ceriscioli Una corsa All'autodistruzione Mechelli Di Città Ideale Dice fiducia Sulla qualità Delle celebrazioni Regionali Governatore Trebisse Ma con una squadra Assolutamente nuova E a proposito Del Divin Pittore Una rosa rossa Sulla sua tomba Al Pantheon Da ieri E per tutto il 2020 Ci sarà questa rosa rossa Sulla tomba di Raffaello Al Pantheon Che accompagnerà Le celebrazioni Per il 500esimo Anniversario Dal 5 marzo Al 2 giugno Alle scuderie Del Quirinale A Roma La grande mostra monografica Sarà l'evento di punta Approvato Dal Mibact E poi Sasso Corvaro Auditore Solo flop Meno fondi E tassi invariate Mercatelli Comitato del Nodice Ottenuti Meno della metà Dei 960 mila euro Che erano stati Preventivati Contributi In buoni Per chi adotta In un cane Lavinium Che è spendibile Nei negozi del territorio Di Terre Rovedesche Qui il sindaco Antonio Sebastianelli Con un cane Con un amico A 4 zampe Dunque un'altra iniziativa Del sindaco Per chi adotta Un cane Ricoverato nel canile Convenzionato Otterrà dal comune Di Terre Rovedesche Un contributo Una tantum Di 300 euro In lavinium In lavinium Lo sapete È un buono spendibile Nei negozi Del territorio comunale Introdotto dal sindaco Nel marzo scorso Nell'ambito Della misura Per il sostegno Ai bambini Nuovi nati E quindi Questa è un'iniziativa Di cui parla Questa mattina Il giornale Velocemente Chiude la libreria Dello sport Anni splendidi Giorgio Losa Aprì Nel 1998 In via Passeri Lì hanno ruotato Lì hanno ruotato Sogni e passioni Della provincia Lui dice È bello vedere Mazzanti Diventare famoso E questa è la sua libreria Ormai chiusa Davanti alle foto Autografate Dei campioni Siamo a Pesaro Ovviamente Poi la super mamma Ascolana A proposito di parti Urbino Un parto gemellare Ma c'è una super mamma Che veramente Ha battuto ogni record Che è di Ascoli E che può godere Del suo decimo figlio Il quinto Con il taglio cesare Uno straordinario Intervento All'ospedale di Foligno Miriam la bimba Gode di ottima salute E questa è la signora Con il marito E qui l'ospedale Appunto di Foligno Dove la signora Ha partorito Poi c'è una storia Invece Che sempre Che il Corriere Adriatico Pubblica questa mattina Purtroppo non abbiamo tempo Per spiegarla Spero che dai titoli Si possa Si possa comprendere Allora intanto La fotografia Ecco guardate questo ragazzo Un ragazzo di 18 anni È il figlio di Merianna Manduca È una signora Una donna Di 37 anni Di 32 anni Scusate Che è stata uccisa Dal marito Il 3 ottobre del 2007 In provincia di Catania Aveva asporto Contro di lui Contro il marito Questa donna Che è stata uccisa Solo i 32 anni Ben 12 denunce Per violenze subite E minacce ricevute Questa donna Ha lasciato tre orfani Tra cui Carmelo Questo ragazzo Che vi ho fatto vedere Di 18 anni Qui lo vedete Insieme Al cugino Della vittima Che è questo signore qua Che tra l'altro Si chiama come lui Carmelo E con La mamma adottiva Paola Ebbene Per accudire Questi Questi figli Perché il rischio Era che potessero andare In famiglie Estrane Rischiamano di finire In case di estrane Separati Questi bambini All'epoca Quando la mamma È stata uccisa Lui aveva 6 anni I fratellini 5 e 3 Ebbene Di fronte a questa possibilità Che potessero finire In case di estrane Il gesto di amore Di Carmelo Questo signore Con gli occhiali Che vi ho fatto vedere E di sua moglie Che vivono a Senigallia Ha fatto sì Che tutti e tre Rimanessero insieme Però poi cosa è successo? È successo che Paola Ha perso Ha perso Il lavoro Carmelo Lo stesso Insomma alla fine Hanno dovuto stringere La cinghia Stringere i denti Dopo 10 anni Nel 2017 Lo Stato È stato condannato A risarcire I tre orfani Perché? Perché i magistrati Erano stati considerati Negligenti Non essendo intervenuti Di fronte a 12 denunce Una sentenza Che ha fatto la storia In Italia Salvo poi essere annullata Nel marzo del 2019 E dopo essere stata Impugnata dallo Stato Che aveva dovuto versare Circa 250 mila euro A questi tre orfani Ora Secondo la Corte d'Appello La tragedia Non si sarebbe potuta evitare Quindi i soldi Dovranno essere restituiti Vanno ora restituiti Manca solo il verdetto Del Cassazione Ecco perché Il titolo E qui adesso capiamo Un po' tutti quanti meglio Nessuno ha difeso mamma A noi orfani Tolgono il futuro La Cassazione Deciderà sul risarcimento Tolto agli eredini Appello Parla il figlio Della Manduca Di questa donna Di 32 anni PM prima condannati E poi assolti Appello ai giudici Di Carmelo Sarebbe un'altra Ingiustizia E questo È l'articolo Appunto Sul giornale Di questa mattina E poi c'è una donna Che è stata abbeffata Dalla visita Dell'Inps Gli indirizzi Sono uguali E il medico Non la trova L'ispettore è andato È andato in un posto In un piccolo paesino Vicino a Fabriano Ma non l'ha trovato Ma ha lo stesso indirizzo E anche lo stesso numero civico Solo che lui ha sbagliato È andato a tre chilometri di distanza Ha sbagliato indirizzo E quindi cosa è successo? Quello che succede a tutti In questi casi Via lo stipendio E di conseguenza Nulla da fare Per il momento Non c'è stato nulla da fare Quindi la signora Pur dicendo Che era accaduto A casa Che stava lì Male Stava ad aspettare La visita fiscale Non ha voluto sapere E sentire ragioni E quindi È andata così Il piano di terre rovedesche Invece Polo scolastico Da 2 milioni Andiamo velocemente Domani iniziano i saldi Scatta la grande sfida Colpi di shopping 3 marchigiane su 10 Si faranno tentare Affari per 100 milioni È tutto Grazie per averci seguito Buona giornata Ci vediamo stasera Alle 20.30 Con il telegiornale Occhio alla notizia Arrivederci Grazie a tutti 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 Grazie a tutti